Pace bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! In questa quarta domenica di quaresima risuona l'amore che Dio ha per ciascuno di noi. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto ma abbia la vita eterna. Non a caso è la domenica della gioia perché la fonte della vera gioia è accogliere ed è vivere di quest'amore. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, cioè Dio ha tanto amato tutti noi, Dio ha tanto amato ciascuno di noi, Dio ha tanto amato te da dare il suo unico figlio. Chi di noi offrirebbe la vita di suo figlio in cambio della vita di altri, magari malfattori? Chi di noi darebbe la sua vita in cambio di altri, magari malfattori? San Paolo dice a stento si trova qualcuno disposto a dare la sua vita per una persona da bene. Cristo è morto per noi mentre ancora eravamo peccatori. Prima che potessimo capirci qualcosa, mentre ancora eravamo immersi nelle tenebre e mentre addirittura stavamo rifiutando il figlio di Dio, lui stava già dando la sua vita per noi, ci stava già amando, ci sta ancora tuttora amando e continua a bussare alla porta del nostro cuore. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico figlio. Questa parola, ascoltata, custodita nel cuore, è capace di risanarlo, sì, di risanarne le radici. Per capirne l'importanza, pensiamo quanto tutto ciò sia vero già nel rapporto con i genitori. Quante persone vivono male perché portano nel cuore un'immagine distorta del padre o della madre? Magari sono stati effettivamente poco presenti, poco accoglienti, poco affettuosi e non per cattiveria, ma magari per la loro storia, la loro impostazione. Ci hanno amati per come hanno potuto, facendo quello che gli sembrava meglio in quel momento della loro storia. Se non ci siamo riconciliati con la nostra storia e non abbiamo imparato ad accoglierli per come sono, rischieremo di vivere male. Magari si rincorrerà il loro apprezzamento, serbando nel cuore un segreto risentimento verso di loro, oppure se ne terremo lontani, rimpiangendo però la loro vicinanza. Magari verso noi stessi saremo poco affettuosi, duri o pretenziosi anche nei confronti degli altri. Ecco, ancora più è, se non è risanata, la radice ultima della nostra esistenza che è Dio. Se non ci lasciamo evangelizzare il suo vero volto dal Vangelo e ne portiamo nel cuore un'idea distorta, vivremo male la vita e la fede. Cosa ci dice Gesù nel Vangelo di oggi? Dio ha tanto amato il mondo, ha tanto amato ciascuno di noi, da dare il suo figlio unigenito. Ecco il volto di Dio, qualcuno disposto a tutto per te, qualcuno che dà tutto per te, perché accogliendolo possa essere uno con te. E perché ha fatto tutto questo? Perché chiunque crede in lui non vada perduto ma abbia la vita eterna. C'è dunque un'offerta meravigliosa che è la vita eterna, che è la vita di Dio, che è la comunione profonda tra padre e figlio nello spirito, amore che circola, amore che non ha fine. Ora, come si fa ad avere la vita? Cosa ci dicono solitamente le religioni, le filosofie, che compiendo certi atti meriti determinate cose, oppure che semplicemente devi risvegliare il divino che già è in te, cioè forme che sottilmente nascondono un'idea di Dio al quale devi carpire la vita, cioè di un Dio geloso dei suoi beni, oppure dell'inutilità di Dio perché già sei tu Dio. Versione peccato originale, non ascoltare, scegli tu, fai tu, già tu sai ciò che bene e male, già tu sei Dio. Cosa ci dice invece il Vangelo? Perché chiunque crede in lui non vada perduto ma abbia la vita eterna. La vita eterna, la vita di Dio, è qualcosa che ci viene offerto, che Dio vuol condividere con noi in un rapporto di unione e con lui. Dice infatti il Vangelo perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Cosa vuol dire credere in Gesù? Credere in Gesù non vuol dire sapere che Gesù è esistito. Il cristiano non è neanche chi crede che Dio esista, quello bene o male lo credono in molti, e non è neanche colui che pensa solo che Gesù sia esistito e magari che è anche risorto. La fede è qualcosa di più profondo. Notiamo un particolare. Nel Vangelo secondo Giovanni non ricorre mai il sostantivo fede, che in greco è pistis, ma ricorre sempre il verbo credere, pisteo in, spesso seguito dalla preposizione eis, in. Questa preposizione indica un movimento verso. Come a dire, Giovanni non ama presentare la fede come qualcosa di generico e di astratto, ma come una relazione di comunione con qualcuno, come una adesione a qualcuno che avanza nel tempo e che porta e comporta sempre più comunione di vita con colui al quale si aderisce, quindi con Gesù. E come avviene tutto questo? Accogliendo anzitutto la sua parola, che custodita nel cuore diventa principio nuovo del mio agire e quasi per sovrabbondanza esce dalle mie parole, dai miei gesti. Cioè vivo una unione profonda, un'adesione a qualcuno che diventa comunione di vita e allora vengo reso partecipe nel dinamismo dell'amore della sua vita, perché quando l'amore circola si condivide. Dio ci offre nella comunione con lui la sua stessa vita. A volte purtroppo si riduce la fede cristiana in una sorta di etica di base, cioè il buon cristiano è quello che non ammazza, che non ruba, che ogni tanto fa anche l'elemosina, ma questo è estremamente svilente perché uno stile di vita del genere dovrebbe essere lo stile di vita di ogni persona. La vita del cristiano è qualcosa di più, di più grande, è vivere in una continua comunione con Cristo perché sia lui ad agire attraverso di noi e quindi veniamo resi capaci di un amore più grande e quindi veniamo resi capaci di amare di più, di amare del suo amore, veniamo arricchiti dei doni dello Spirito Santo, diventa nostra guida la luce del Vangelo che è verità profonda su Dio e su noi. Ecco perché i santi hanno lasciato esempi meravigliosi nei diversi stati di vita, chi nel matrimonio, chi nella vita consacrata, perché? Perché in loro agiva Cristo, perché la loro vita era vissuta, nelle piccole come nelle grandi cose, in comunione con Lui. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico Figlio perché chiunque crede in Lui non muoia ma abbia la vita eterna. E continua Gesù. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi non crede però è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato di più le tenebre che la luce. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Qual è il punto? Vedete qui non c'è una condanna senza appello, ma nell'ascoltare la parola stessa avviene un setaccio nel nostro cuore e ci vengono dati dei criteri di discernimento per capire quanto questa parola del Signore stia trovando realmente posto nel nostro cuore. Gesù ci parla di un giudizio che è un giudizio già in corso ed è legato al fare, cioè secondo la mentalità tipicamente ebraica le mie opere rivelano ciò che ho nel cuore e mostrano la verità di quel che sono. Un bravo biblista Brown diceva che Gesù porta alla luce ciò che un uomo realmente è e la vera natura della sua vita, cioè è come una luce penetrante che provoca il giudizio rendendo evidente ciò che l'uomo è. Secondo la mentalità ebraica il fare manifesta l'essere. Ecco perché chi fa la verità viene alla luce, invece chi ama di più le tenebre perché le sue opere sono malvagie, non viene alla luce. È molto concreto il discorso di Giovanni. Sono le mie stesse opere che manifestano ciò che realmente ho nel cuore, se io sto accogliendo davvero la luce, l'amore di Dio, la sua parola, la sua tenerezza o se il mio cuore è ancora abbarbicato alle tenebre, al peccato. Attenzione, qui non si tratta del fatto che io possa o meno cadere per debolezza nel peccato, ma si parla di amare le tenebre, dunque di una scelta preferenziale, consapevole. E qui c'è un punto serio perché chi non ama la verità non solo la può rifiutare ma può anche diventare incapace di riconoscerla. Possiamo assistere a persone che cercano di mimetizzarsi mascherando, ad esempio, i loro peccati o le vere ragioni delle loro azioni, sia agli altri che a se stesse eppure a Dio. Altre volte si è tentati di dare un nome diverso alle cose per il proprio tornaconto, negando ad esempio che una cosa sia sbagliata solo perché a loro va di farla, o si fa finta di non capire, ma solo perché non interessa capire. Quando è che noi non siamo disposti a venire alla luce quando il nostro cuore ama le tenebre. Allora vogliamo chiedere oggi una grazia al Signore, vogliamo chiedergli innanzitutto che ci convinca sempre più del suo amore verso di noi e seconda cosa che ci aiuti a distaccare il cuore dal peccato. San Francesco di Sale spregava chiedendo al Signore la grazia non solo di non commettere il peccato ma di disaffezionarsi al peccato e l'affetto al peccato che purtroppo spesso ci rende prigionieri e tante volte ci impedisce di venire alla luce. Che davvero possiamo lasciarci convincere dell'amore di Dio e che la vera libertà sia soltanto nella verità. Che il Buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti!